la memoria è importante la memoria dà la continuità all'essere e la memoria va coltivata va rinnovata va celebrata a palermo a pochi passi da via da medio luogo in cui avvenne la strage il 19 luglio del 1992 c'è un'area dedicata al valore delle donne contro ogni violenza siamo in via autonomia siciliana all'altezza del civico 138 qui c'è il primo progetto di rigenerazione urbana firmato da donne rigenerative oggi questo spazio è pieno di parole di simboli ma soprattutto di silenzi silenzi che fanno ricordare le tante parole non dette da chi è stata strappata alla vita con violenza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti